Oh, quanti compiti oggi! Sono qua da un sacco di tempo, non ho ancora finito. Ho bisogno di una pausa però, magari c'è qualche dolcetto, sperando che Giulia e Demma non si se ne siano appropriati tutti. Mamma, papà, non ho ancora finito i compiti. Cosa? Ma Anna, sono ore che stai studiando, hai bisogno di una pausa tesoro. Sì, posso prendere qualche dolcetto? Certo, vai in cucina. Sono nel solito ripiano. Sì, magari prendi quelli che Giulia e Demma ti hanno lasciato perché non so cosa sia rimasto. Va bene, ok. Evviva dolcetti, ho proprio bisogno di ricaricare le pile. Un po' di zucchero fa sempre bene. Spero ci sia un po' di cioccolato. No, non c'è niente. C'è solo del dentifricio. Ma cosa ci fa del dentifricio dentro la cassetta dei dolcetti? Ah, no, no, Anna, non è del dentifricio. Quello è una pasta chevingum. Mangiale buona, dovrebbe sapere di fragola. Chevingum? In questo tubetto? Che strano, non l'ho mai visto così. Beh, proviamolo. Wow, profuma tantissimo. Quanto è buono, sta proprio di fragola. Ehi! Ah! Oh, mi avete spaventata. Ah, ah, ah. Ti abbiamo preso tutti i dolcetti e lasciato solo questo dentifricio. Ma non è dentifricio, è chewing gum, alla fragola. Cosa? Ma noi pensavamo fosse dentifricio. Per quale te l'abbiamo lasciato e abbiamo preso tutti gli altri dolcetti? Ah, grazie. Beh, vi ho fregato, è chewing gum. È buonissimo. Oh, sì? Fammelo provare. Eh, sì, profuma di fragola, effettivamente. Mmm, ma è buonissimo. Vero? Anche per me. Quindi il vostro scherzetto non è riuscito. Ah, ah, ah. Mi dispiace per voi. Mmm, beh, vabbè. Noi comunque abbiamo sempre tanti dolcetti, eh. Adesso ho ricaricato le pile e posso di nuovo mettermi all'opera. Ah, finalmente ho finito. Woo! Mmm, ho proprio bisogno di un pisolino. Sì, sì, sì. Oh, oh. Anche io. Magari sognerò di essere una principessa nel mio castello. Sì. Eh, vado a vedere i ragazzi. Sai, quando c'è silenzio non è mai un buon... Un buon sentore. Va bene, vai a vedere, va là. Beh? Julian che fa il pisolino al pomeriggio? Ma da quando è in qua? Eh, anche Emma dorme. Ma che strano, ma... No, che poi non dorme stasera. Emma, c'è da mangiare. Emma. Hai detto da mangiare? Oh no, Emma. No, mannaggia. Hai il ciugan tra i capelli. Ce l'avrà anche Julian. Julian, svegliati. È pronto da cena, Julian. Julian è pronto da cena, Julian. Cosa cena? C'è la si mangia? Oh no, anche tu. Oh, caspita. Il ciugan nei capelli è la cosa peggiore. Vado a prendere le forbici. Mannaggia. Emma, hai il ciugan tra i capelli. Anche tu, eh? Cosa? Anch'io? Adesso però ce lo dovremo togliere. Come facciamo? Mamma, cosa stai facendo con quelle forbici? Vi tolgo il ciugan dai capelli. No, 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 no. Non mi taglierai neanche un centimetro del mio. Julian, non c'è altro modo. Quindi forza. Ma, mamma. Julian, non c'è altro modo. O vi strappo i capelli o ve li taglio con le forbici. E direi che la soluzione migliore siano le forbici. Cosa dite? Oh no, i miei stupendi capelli. La prossima volta evitate di addormentarmi con il ciugan in bocca. E pensate se vi fosse andato di traverso. Mannaggia. Una prossima. Grazie a tutti